Oggi sono molto felice, tutti sanno che la mia uscita dal Barcellona è stata davvero difficile da gestire. Dopo tanti anni ho dovuto cambiare, arrivare qui mi ha dato tantissima felicità, ho voglia di iniziare. Messi così chiude con il passato, parlando per la prima volta da calciatore del PSG a fianco del presidente Nasser Al-Khelaifi. Voglio vincere, voglio continuare a competere a livelli alti e non ho avuto dubbi sul Paris Saint-Germain perché questo club vuole crescere, ha detto ancora l'attaccante argentino, che con la squadra ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno da 35 milioni di euro netti a stagione. Messi è pronto a scendere in campo a fianco di Neymar e Mbappé, tra i giocatori più pagati al mondo, ma anche dei nostri Verratti e Donnarumma, obiettivo la Champions. Non è facile vincerla, puoi anche avere la migliore squadra del mondo, alla fine non vinci perché il calcio è fatto di piccoli dettagli, riflette Messi, che torna poi sulla sua squadra sul Barcellona. Ritrovare i miei ex compagni in Europa sarebbe strano, ma anche bello, speriamo, con lo stadio pieno di tifosi. Questo è il calcio, vedremo se succederà. Ha concluso Messi accolto ieri al suo arrivo a Parigi da una folla festante di tifosi che lo hanno acclamato a lungo davanti all'albergo dove alloggia.